Nel pomeriggio di ieri si è costituito Salvatore Consiglio, il 37enne di Rosarno, che sabato scorso era scampato ad un agguato sparando alcuni colpi di pistola e facendo perdere le sue tracce. L'uomo si è presentato in caserma a Rosarno accompagnato dal suo avvocato. Su Consiglio pende dal 20 settembre un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA di Reggio Calabria per detenzione porto illegale d'arma comune da sparo clandestina e tentato omicidio. Il fermo è legato alla sparatoria di sabato quando il 37enne, dopo essere stato tamponato da un altro veicolo, ha esploso all'indirizzo di quest'ultimo quattro colpi di pistola Calibro 21, senza tuttavia colpire alcuno e dandosi alla fuga. Consiglio ha consegnato spontaneamente una pistola Beretta modello P4 Storm con matricola Brasa, probabilmente utilizzata per commettere il delitto in questione. La sparatoria era avvenuta sabato notte intorno alle 23 a Rosarno, lungo la via nazionale Nord. Consiglio era noto anche alle forze dell'ordine. Era stato arrestato nella primavera del 2010 e poi scarcerato nel 2013, in quanto ritenuto vicino alla cosca dei pesce. L'operazione che portò anche al suo arresto venne effettuata dai carabinieri e dalla polizia e scattò il 14 agosto 2007 e venne ribattezzata All Inside.